Il salasso praticato l'anno scorso dal Ministero degli Interni al bilancio dell'amministrazione provinciale di Cremona, che nell'agosto scorso dovette impegnare ben 17 milioni di euro a favore dello Stato per contrasto al debito pubblico, pesa ancora come un macigno e suscita non poca amarezza verso le austere politiche continentali. Infatti, in corso Vittorio Emanuele II non ci sono soldi sufficienti a completare i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Po. L'ente guidato dal presidente Davide Viola, proprio perché da ente virtuoso ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, ora non può completare i lavori previsti di sistemazione del secolare ponte di ferro. Le due province di Cremona e di Piacenza avevano preventivato l'anno scorso un cantiere da 10 milioni di euro per i lavori di sistemazione del ponte. In un primo momento il Ministero delle Infrastrutture ha accettato la previsione di spesa, ma poi ha stanziato soltanto 7 milioni e 571 euro, chiedendo alle due province di aggiungere 2 milioni e 400 mila euro. Soldi che Cremona e Piacenza non hanno più per aver messo in sicurezza il bilancio 2017 e il Ministero non ha fatto di meglio che autorizzare una riduzione del programma dei lavori, cambiando progetto per risparmiare sulla spesa. Il Ministero ha stanziato complessivamente 35 milioni di euro per le infrastrutture sul Po in condizioni di emergenza e ha scelto come priorità la manutenzione del ponte sul Po di Casal Maggiore, tuttora chiuso al traffico. Quindi il cantiere cremonese sarà aperto, ma solo per intervenire sui punti più critici, garantendo la sicurezza con le opere che non si possono più rimandare. Persiste intanto il limite di velocità di 50 chilometri orari e il divieto di transito per i camion che superano il peso complessivo di 20 tonnellate, fatta eccezione dei mezzi di soccorso e dei veicoli necessari alle operazioni di agibilità stradale. Non possono transitare nemmeno i veicoli che trasportano esplosivi o prodotti infiammabili per un peso superiore alle 3 tonnellate e mezza.